ecco l'ultimo pezzo prima del confine per l'albania prima della dogana strada strada senza asfalto è notte notte sono le 11 e mezza di sera abbiamo ancora 15 chilometri di una strada così ci hanno detto con delle buche bisogna stare molto attenti quando incrociamo le macchine bisogna fare attenzione ai buchi riteremo informati all'arrivo